Che è successo? Forse ha un aborto spontaneo. Non ha un aborto. Allora è un'extrauterina? Potrebbe essere un ovulo cieco. Non è una mola vescicolare, vero? Però, quanti medici qui dentro? Chi è lei e quali sono le sue credenziali? Lucy Fields, laureata da Harvard, specializzata in ginecologia e ricercatrice in medicina materno-fetale al Seattle Grace. Sono brava nel mio lavoro. Chi siete voi? Siamo imparentati... Oh, beh, una strana situazione. Fidenzata lesbica, padre del bambino. E siete tutti un po' sconvolti. Ok. Allora. Ecco il vostro bambino. Quello è il sacco vitellino. Sembra a posto. Lei sta bene. Ho delle perdite. È comune. Capita quasi nel 30% delle gravidanze. Andrà tutto bene. Non vedo il battito cardiaco. Dov'è il battito? È troppo presto per il battito. Farò le analisi del sangue, ma sono sicura che va tutto bene, sì. Riposi nei prossimi giorni. Beva molta acqua, niente assorbenti interni, niente rapporti. Sono d'accordo. Mi chiami se l'emorragia dovesse peggiorare o se avesse crampi. Se no, vita normale. Lo dico a tutti. Finché potete. Questa è un'assersore. Giuseppe e cuore. Non vedo. Questa è un'asserore. Allora è interessante.